A Jesolo la polizia ha arrestato un uomo di nazionalità tunisina con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Di nazionalità tunisina aveva aggredito la moglie minacciandola con un coltello da cucina. La donna è riuscita a fuggire dall'abitazione e chiamare il 113. In pochi istanti la volante è arrivata sul posto trovando il marito ancora con il coltello in mano. Lo teneva dietro la schiena nel tentativo di nasconderlo. Gli agenti hanno anche appurato che era ubriaco. È scattato l'arresto ed è emerso che già nel corso del 2023 si sarebbe reso responsabile di reiterati maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglie.